Ciao a tutti, faccio questo video perché è successa una cosa che di per sé sarebbe divertente se non fosse che poi ci ho pensato sopra e bisogna un po' sistemare le cose perché c'è qualcuno che si diverte a continuare a creare divisione, a diffondere errori e anche a cercare consenso attraverso azioni scorrette come mettere alla berlina le persone per esporre l'insulto, è classica dinamica da setta e non è bello perché in verità quando non si è capita una cosa o non si è sicuri di averla capita basta chiamare l'interessato e così si può avere una delucidazione sto parlando del caso di Andrea Cionci, lo scrittore del codice Ratzinger che chissà perché deve avere qualche problema con Liberi Inveritate come un'associazione di cui faccio parte, dal tono usato ma così senza chiamarmi, lui ha il contatto per chiamarmi, in passato abbiamo parlato prende un post di cui non ha capito tecnicamente un cazzo perché bisogna dire così non ha capito niente e mi attribuisce dei pensieri che non sono i miei mi attribuisce un cortocircuito e parte con le sue solite lucubrazioni con i suoi ergo che ergo non sono, le sue deduzioni è il metodo Cionci, quel taglia, estrapola, ricuci mettici qualche ergo con la sua bella voce impostata e fanne scaturire una tesi apparentemente a un primo ascolto attendibile ma se poi vai a verificare come nel suo libro il codice Ratzinger in realtà è un mare di stupidaggini e ve lo dimostro, non del codice Ratzinger che bisogna stare lì a prendere una pagina alla volta e far vedere quante scemenze ci sono e sarebbe come il codice da Vinci il codice da Vinci che creò qualche problema sempre a chi ha le menti deboli perché vi si diceva che il sacro rally in realtà era Maddalena Santa Maddalena che si sarebbe sposata con Gesù e avrebbe dato la discendenza dei Mervingi sono quelle boiate partorite nel sud della Francia tardo ottocento in ambiente massonico si sa benissimo da dove viene, da dove ha pescato Dan Brown e ovviamente nessuna persona seria si è messa a dibattere e non è che Dan Brown abbia avuto la volontà di interpellare vescovi, cardinali, teologi per smentire le sue tesi era un romanzo tra l'altro e qui invece c'è la pretesa di aver scritto un trattato di ecclesiologia e di diritto canonico ma le scemenze sono di pari livello ma io su quello non mi ci metto è penoso mi soffermo sul video per far vedere com'è il metodo Cionci parte dicendo ecco l'Ovata ha avuto un cortocircuito perché scrive il signor Bergoglio e quindi ecco l'Ergo il quindi e quindi riconosce che non è Papa no signore no signore io che sono tra i primi ad aver messo in evidenza che questo Papa esterna con parole e scritti cose non corrispondenti al deposito un fidei io ho il vezzo da dieci anni e chi conosce me e il mio profilo Facebook lo sa ho il vezzo di chiamarlo Papa Francesco ogni volta che merita di essere citato per qualcosa di buono e giusto e di chiamarlo il signor Bergoglio quando viene fuori con le sue enormità enormità che purtroppo hanno generato in questi anni i dubbi dei cardinari la correzione fraterna che era stata proposta l'interpellanza di Monsignor Snyder in seguito alla gravissima dichiarazione di Abu Dhabi cari amici Davide Lovat evidentemente non ha preso bene il mio podcast che gli ho dedicato e non l'ho fatto proditoriamente l'ho fatto perché lui ha scritto un post su Facebook in cui aveva dei toni screditanti verso il sottoscritto e ha anche detto delle sciocchezze tipo che io avessi affermato che Benedetto aveva mentito eccetera eccetera mai detta una cosa del genere in questa sua risposta il Lovat è abbastanza teso mi sembra un po' nervoso dice parolacce utilizza la pena un filo stantia battuta del romanzo alla Dan Brown per screditarmi non rendendosi conto che più si cita questa cosa del romanzo alla Dan Brown più ci si dà la zappa sui piedi per quale motivo perché un romanzo alla Dan Brown uno non lo va a depositare in un tribunale penale a meno che non sia perfettamente idiota no soprattutto non lo fa con l'ausilio di cinque avvocati e di due canonisti che dice Lovat comunque apprendiamo che nel suo post in cui parlava del signor Bergoglio e diceva beh adesso è chiaro a tutti dopo quello che cosa è chiaro che cosa è chiaro lo chiama signor Bergoglio dice che le sue eresie parlano da sole uno che deve pensare deve pensare che lei non lo riconosce papa come in quanto papa eretico e quindi io ho fatto un ragionamento illustrandole perché non si può disconoscere un papa in quanto eretico oggi lei viene a dirci che invece no non intendeva dire che Bergoglio non è papa lo riconosce il papa ma quando dice le eresie quando fa il cattivello allora lei lo chiama signor Bergoglio poi invece quando fa il bravo lo chiama papa Francesco ma vi rendete conto ma vi rendete conto poi questo Davide Lovat viene a dire a me che non capisco niente di diritto canonico allora per il diritto canonico lei come fedele deve avere un religioso sequio verso il papa quindi se per lei dice eresie lei comunque chieda umilmente sommessamente conto ai vescovi e che le risponderanno evidentemente non le hanno risposto perché perché lei nel merito delle questioni ha ragione perché quelle sono palesi eresie ma quegli altri non possono non hanno argomenti per rispondere quindi abbiamo un Lovat che da un cortocircuito in cui apparentemente sembrava dire che Bergoglio non è papa in quanto eretico adesso passa alla corrente alternata dal cortocircuito alla corrente alternata per cui se Bergoglio fa il bravino lo chiamiamo papa francesco se fa il cattivello lo chiamiamo signor Bergoglio e buonanotte al religioso sequio buonanotte alla prima sede che non può essere giudicata vabbè a parte diciamo il cattivo gusto delle parolacce che lui utilizza per definire sciocchezze diciamo così le mie affermazioni poi però non entra nel merito non entra nel merito e dice no ma io neanche mi ci metto a contestare tutte le sciocchezze di codice razzing va bene e lui insiste sul fatto che Bergoglio possa essere un papa eretico però poi sentite che cosa dice al minuto 12 e 51 ma potremmo trovarsi davanti alla situazione del primo papa che pecca contro la verità ecco quindi questo è il primo papa che pecca contro la verità quindi lo stesso Lovat ci sta dicendo che la prima volta in cui avremmo avremmo il papa eretico ma come non doveva essere ordinaria amministrazione nella storia della chiesa il papa eretico questo è il primo papa che pecca contro la verità e allora come lo si mette come la si mette con il dogma dell'indefettibilità della chiesa e dice no ma è perché lui non è ancora morto quindi è ancora in tempo per redimersi beh sono appena 11 anni che spara eresi una dietro l'altra lo afferma lo stesso Lovat nel suo post però c'è sempre tempo c'è sempre tempo diciamo allora la prospettiva di Lovat è questa non c'è mai stato un papa che ha peccato contro la verità però questo è il primo papa che ha peccato contro la verità sì sono appena 11 anni che ne spara una dietro l'altra però c'è sempre il tempo e come come era il maestro Manzi non è mai troppo non è mai troppo tardi per redimersi poi dice che Cionci non ha capito niente del diritto canonico perché a monte del diritto canonico c'è la misericordia quindi questo vorrebbe dire che le sanzioni sì certo le pene medicinali le sanzioni la possibilità di riaccogliere chi chi ha sbagliato e fa a menda certo questo è un criterio di base ma non è l'impunità non è il condono questo non so dove non so chi gliel'ha detto forse il veterinario che nel diritto canonico passa tutto in cavalleria la informo del fatto che Giovanni XXIII Cossa dopo cinque secoli è stato dichiarato antipapa quindi la chiesa non perdona niente da questo punto di vista perdona chi fa a menda come giustamente ha insegnato Gesù Cristo ci si confessa dei peccati quando ti sei confessato rientri in linea vieni riaccolto ma non prima non prima infatti che cosa succede con gli scomunicati devono ritrattare devono fare a menda allora quando ritrattano sono 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 riaccolti nella chiesa ma la lunarità di questo intervento molto teso di Lovat sta nel fatto che lui cerca di di insistere su su questa questione del papa eretico che è possibile allora il fatto che ne abbiano discettato alcuni cardinali anche San Roberto Bellarmina mi trova nel diritto canonico una modalità per deporre il papa eretico o anche solo nel diritto canonico dove si parli del papa eretico no perché finché ne parla il cardinale Tizio il cardinale Caio un santo di secoli e secoli fa va bene tutto ma quello che conta è il diritto canonico di oggi allora visto che dietro al diritto canonico c'è la misericordia mi trova un canone che dice sì il papa può essere eretico e se è eretico comunque è sempre papa può essere si può chiudere un occhio si può andare tranquillamente così se un papa viene eletto mentre quello precedente non è morto non è abdicatario ma è impedito passa tutto in cavalleria eccetera c'è qualcosa del genere nel diritto canonico? mi trova un canone in cui si afferma in primis la possibilità dell'esistenza di un papa eretico in secundis la possibilità di accettare un'elezione nulla invalida ecco vedete secondo me questo intervento di Lovat non è sincero perché ho l'impressione che sia una persona più intelligente delle cose che ha detto anche per la goffagine con cui le ha dette questo cercare di screditare la mia opera con la 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 cosetta del romanzo da Dan Brown è un filo abusata cioè pensavo che Lovat potesse trovare qualcosa di più salace invece sembra anche lui ripetere un copione no? quei dieci punti Cionci ha fatto il codice cabalistico che solo lui sapeva interpretare il suo libro è Piero di stupidaggi non ne contesto neanche una Cionci ha dei settari che mi hanno dileggiato eccetera insomma un po' il repertorio Viganian Zenoniano diciamo così ecco una chimera fra Zenone e Viganò ma la cosa la cosa buffa di tutto questo intervento che non ho finito perché insomma ho altro da fare rispetto alle argomentazioni dell'Ovat è che si affanna mostruosamente per cercare di dimostrare che ci può essere un legittimo Papa eretico quando la cosa più economica la cosa più ovvia è l'antipapa eretico no? l'antipapa eretico è la cosa più facile cioè un Papa non legittimo non canonicamente eletto che è eretico perché è eretico perché manca il sigillo di garanzia per così dire il bollino di qualità il monus petrino l'assistenza dello spirito santo perché non parla di antipapi eretici l'Ovat lo sa che c'è stato qualche antipapa eretico per esempio Novaziano ereticissimo ne scriveva la bussola quotidiana però senza mai scrivere che era antipapa perché questa è la è la parolina tabù che non si può dire se no poi il cardinale Burke il cardinale Müller si arrabbiano e gli danno le totò allora siete ridicoli siete semplicemente ridicoli vi state affannando a trovare un appiglio per giustificare il primo Papa che pecca contro la verità mettendovi sotto i piedi il dogma dell'infallibilità e non prendete in considerazione la cosa più ovvia e più semplice cioè che Bergoglio è eretico perché non è il Papa e perché non è il Papa perché Benedetto XVI non ha fatto quello che lei dice cioè che ha mentito che ha preso in giro i cattolici Papa Benedetto ha applicato le leggi della Chiesa ha messo in difficoltà come tutti i papi postconciliari sono stati attaccati fisicamente personalmente con attentati di ogni sorta Papa Benedetto che cosa ha fatto? ha usato le leggi della Chiesa ha lasciato che venisse convocato un conclave illegittimo e li ha fregati tutti non è difficile non è difficile perché ha reso Bergoglio antipapa quindi se Bergoglio è eretico è eretico perché non è il monospedrino non ha l'assistenza dello Spirito Santo abbiamo fatto salva l'istituzione del papato il dogma dell'infallibilità la promessa di Gesù Cristo l'articolo 675 del catechismo tutto tutto torna tutto torna il pastore idolo di cui parla Zaccaria il Papa non canonicamente eletto di cui parla San Francesco il terzo segreto di Fatima in cui si parla di un vescovo vestito di bianco eccetera eccetera il film già visto è che viene eletto non canonicamente un Papa che è eretico appostata e pone la Chiesa a una prova finale ora dice no vabbè ma Cionci non capisce niente del diritto canonico eccetera bene allora lei sa leggere visto che ha una laurea in teologia anche se ha gli occhiali può aguzzare la vista e leggere queste quattro frasette vede gli articoli 76 e 77 dell'Universi Domenici Gregis dicono che se la rinuncia del pontefice non è avvenuta a norma del canone 332.2 che richiede la rinuncia al munus petrino e l'elezione che avviene dopo è nulla invalida senza che intervenga alcuna dichiarazione in proposito riesce a leggere oppure dobbiamo farle un'animazione un audio qualcosa di tattile non so attraverso altri sensi lei ci può arrivare a comprendere quello che c'è scritto nell'Universi Domenici Gregis Lovat tira fuori infine un'altra zenonata dice no ma come vabbè è un insulto dire che Ratzinger era ambiguo perché lui è sempre stato chiarissimo lui ha sempre cercato di farsi capire bravo bravissimo ecco allora come come è che dal 2013 lui dice sono il primo papa a dimettersi dopo mille anni com'è che dice il papa è uno solo non spiega mai quale dei due com'è che dice mantenere il nome Benedetto e la veste bianca era la cosa più pratica perché non avevo altri abiti disponibili nel momento della rinuncia com'è che Benedetto XVI di fatto comincia a parlare in modo ambigua e sottile parla in restrizione mentale larga non so se lei sa di che cosa stiamo parlando comunque mi fermo qui perché non vorrei infierire ulteriormente andatevela a vedere questa risposta di Lovat perché è una specie di summa di tutte le zeronate e viganate di peggior lega che circolano caro Lovat io le dico questa cosa verrà fuori prima o poi più prima che poi e lei rischia di rovinarsi completamente la reputazione tra l'altro non si dicono le parolacce in un video cerchi di essere educato e rispettoso perché io le ho fatto una contestazione dal punto di vista logico intellettuale quello che lei ha scritto nel suo podcast avrebbe fatto capire a tutti che per lei Bergoglio non era il Papa perché lo chiama signor Bergoglio dice beh adesso non c'è altro da dire perché tutte queste eresie tutte queste eresie cosa dicono? dicono che il Papa è eretico e allora perché lo chiama signor Bergoglio? lo chiami Papa Francesco eretico abbia il coraggio di dire che Papa Francesco è eretico non è che decide lei quando è signor Bergoglio o quando è Papa Francesco insomma amici miei liberi in veritate è un brocco è un cavallo perdente mi dispiace perché là dentro ci sono anche delle persone valide che però poi non sono state in grado di portare a termine la questione Di Lovat aveva una buona opinione dal punto di vista intellettuale che è scesa dopo la nostra prima chiacchierata che è scesa ancora dopo il suo podcast dopo il suo post su Facebook inutilmente aggressivo che è scesa ancora e forse diciamo in modo irreversibile dopo questa ultima risposta ripeto prima di pensare alla possibilità di un Papa eretico pensate alla possibilità dell'antipapa eretico che è ordinare amministrazione nella storia della Chiesa e che è la ovvia soluzione che salva il dogma dell'indefettibilità salva la promessa di Cristo salva l'istituzione del Papato noi ci vediamo il 29 a Terni il 12 ad Ascoli il 13 a Montesilvano il 18 a Manerba sul Garda il 19 a Bergamo il 20 a Bologna il 25 ottobre a Modena con Domenico Savino che mi intervisterà un caro saluto a tutti grazie a tutti